vediamo se glielo interessa, se si può fare trattativa a se le chini 11, a se le chini 11, a se le chini 11 Brontù? Kaledi? Ciao son Romulo senta una cosa, ti chiami a fare una trattativa c'è una squadra là in Egitto che gliela serve un baglio dei giocatori forti? eh? no te la sbiega, qua a Roma ce ne sono rimasti due soltanto si perché c'è il Presidente della Roma che le vende tutti si, c'è un baglio ma non di più proprio se te la interessa no? lui fa tipo bancarelli no? lui mette, però non ce se mette lui, ci mette monce a bancarella e tu vai là a compri il giocatore, lui si vende tutto eh? si vende pure l'anima delle mortasci a se le chini tutto se la vendi, si, si, si vabbè, fammi sapere, fammi sapere che così ti porto io a bancarella e compriamo i giocatori, va bene? va bene? ciao Khaleddi, ciao 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 fa pure i tweet che è indegnato ma l'anima delle mei si le chini, chi sei indegnato? twitta sta scippa di kebab, twitta se le vendi tutti sei pure indegnato mamma mia che c'è altre due lunga poscia